Il treno regionale, 11.003, di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 5.40, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Susegana, Spresiano, Lancenigo, Treviso Centrale, Santrovaso, Preganziol, Mogliano Veneto, Venezia Mestre Ospedale, Venezia Mestre, Venezia Porto Marghera. Il treno regionale, 28.00, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 5.55, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sacile, Pordenone, Casarsa, Codroipo, Udine, Cormons, Gorizia Centrale, Sagrado, Mofalcone. Il treno regionale, 56.26, di Trenitalia, delle ore 6.18, proveniente da Belluno, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 27.32, di Trenitalia, proveniente da Venezia Mestre, è diretto a Sacile, delle ore 6.29, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 27.33, di Trenitalia, delle ore 6.33, per Venezia Santa Lucia, è in partenza dal binario 2. Ferma a Spresiano, Treviso Centrale, Mogliano Veneto, Venezia Mestre. Il treno intercity notte, 774, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 6.37, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sacile, Pordenone, Casarsa, Codroipo, Udine, Gorizia Centrale, Mofalcone. Il treno regionale, 56.00, di Trenitalia, delle ore 6.41, per Belluno, è in partenza dal binario 2. Ferma a Soffratta, Vittorio Veneto, Santa Croce del Lago, stazione per l'Alpago, ponte nelle Alpi Polpet. Il treno regionale, 11.006, di Trenitalia, delle ore 6.45, proveniente da Venezia Mestre, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Frecciabianca, 9705, di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Milano Centrale, delle ore 6.49, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Treviso Centrale, Castelfranco Veneto, Cittadella, Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Brescia. Il treno Euronight, 237, di Trenitalia, proveniente da Vienbestbf, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 7.24, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Treviso Centrale, Venezia Mestre. Il treno Alta Velocità Frecciargento, 94-13, di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Roma Termini, delle ore 7.55, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Treviso Centrale, Venezia Mestre, Padova, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina. La prima classe è in testa al treno. Per agevolare l'accesso al treno invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno Alta Velocità Frecciargento, 94-42, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Udine, delle ore 21.15, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pordenone. La prima classe è in testa al treno. Per agevolare l'accesso al treno invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno Intercity Notte, 770, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Roma Termini, delle ore 22.54, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Treviso Centrale, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Terme Ugane e Abano Montegrotto, Monsellice, Rovigo, Ferrara, Bologna Centrale, Arezzo, Teronto La Cortona, Chiusi Chianciano Terme.